Sono amministratore della Manucci Droandi e sono Maria Grazia Mamuccini. Noi ci basiamo sulla tradizione e puntiamo proprio sui vitigni fondanti del Chianti Classico e anche sul recupero dei vitigni autoctoni, ma a questa tradizione bisogna anche saper inserire nuove conoscenze e anche nuovi metodi che esaltino meglio proprio quell'identità e quella tradizione. Quindi tradizione e innovazione per noi vanno di pari passo. Ho imparato che bisogna essere molto pazienti, lavorare a lungo, anche affrontare gli errori come elementi di crescita, ma certo è che lavorando con serietà e costanza i risultati del territorio, dell'espressione della terra sono sempre risultati molto belli. Il vino per me è un simbolo di socialità, di famiglia, di territorio e di comunità locale e secondo me sono valori importantissimi anche per il futuro.